Sei un pezzo di merda, Jack. Se entro una settimana non mi porti i 50 sacchi, io ti faccio saltare il locale. Chi sta ammazzando? No, senti, Jack, non ti sopporto più. Non fai altro che lamentarti. Soldi, soldi, soldi. Tira fuori i coglioni e prendi una decisione, ok? Fai quanto cazzo fumi? Quanto spendi di sigarette? Il problema non sono queste. Il problema è il mezzo milione che mi sono pippato negli ultimi cazzi di 40 anni. È una macchina che non ha nessun valore. È conciata. Come nessun valore? Questa è una macchina storica. Ci ha vomitato Robert Plant dentro. È un motivo in più per darti di meno. Avevamo quella pizzeria che andava così bene. Ma come ti è venuto di aprire un locale rotto? Ma come sei conciato? Sembra un gelataio. Senti lui, sembra una merda sempre. Ma quale cazzo di rock? Le pizze. Compriamo un forno nuovo, più pizze, più grana. Sei proprio... Sei il milf del rock. I gotta go, I gotta go... Allora fratello, ti è piaciuto il concerto? Mi è piaciuto il concerto, mi è piaciuto Però cazzo, io dentro 15 giorni devo tirare fuori 50 zucche Se no questi mi vengono a cercare Oh cazzo, ma me lo potevi dire? Chiamavamo gli Iron Maiden Ma vaffanculo vai